Bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di differenza fra statali ed autonomi. Io sono laureata, ho due lauree e sono dieci anni che aspetto un concorso. Quando nella mia città c'è un laboratorio dove io volevo entrare, dove una persona dell'età di vostro padre o vostro nonno entrò tanti anni fa con la terza elementare senza fare concorsi, perché una volta gli statali entravano nei posti comunque di lavoro senza fare concorsi. Quindi i vostri genitori, i vostri nonni non possono assolutamente capire che cosa significhi faticare per trovare un lavoro, non possono comprendere cosa sia proprio la fatica del dover cercare un lavoro. Una volta i lavori c'erano e era anche facile ottenerli, era facile ottenere un buon posto di lavoro. Quindi quando i vostri genitori oggi vi chiedono quanto guadagni perché non lavori, non possono capire la fatica, che c'è dietro. Io ho impiegato cinque anni della mia vita per studiare, quindi ho impiegato tempo, soldi e quella laurea non mi ha permesso di trovare un lavoro, un lavoro che i nostri nonni hanno trovato senza neanche dover cercare, neanche dover fare concorsi. Quindi gli statali hanno una libertà, gli statali di una volta, di oggi è quasi impossibile trovare un posto fisso a livello statale, non possono comprendere la difficoltà del cercare lavoro e non potranno mai comprendere il come si guadagna oggi. Quindi molti ragazzi che hanno dei genitori che gli stanno col fiatto sul collo, che gli dicono cercati un posto fisso, avranno questa frustrazione, non capiranno mai il perché di questa ossessione del posto fisso e saranno quindi frustrati, demotivati, non crederanno nelle loro capacità perché penseranno che è colpa loro, in realtà è la società che ha cambiato il mondo del lavoro, il mondo del lavoro vi dà un annuncio, è cambiato. Molte persone perché si affacciano all'online? Perché è un lavoro comunque sicuro, nel senso che tutti possono intraprendere. È come aprire un negozio. Io avevo, mia madre che aveva un negozio, l'ho dovuto chiudere per i debiti perché non riusciva ad entrare delle spese. Investire nell'online significa aprire un'attività a costo zero e con impegno, quindi se ti impegni, se ti fai il mazzo, puoi ottenere qualcosa. Ma non avrai un guadagno subito, non è che ti assumono, ti assumono le poste e hai subito i tuoi mille euro e quindi le spalle coperte. No, il guadagno ti arriverà dopo un certo periodo in base al tuo impegno, quindi chi si fa il mazzo può guadagnare e i vostri genitori non la capiranno mai questa cosa perché loro non hanno dovuto farsi il mazzo per trovare lavoro, non hanno dovuto faticare. Gli è stato servito su un piatto d'argento un lavoro, lo hanno fatto per 40-50 anni, è arrivata la pensione e adesso stanno a casa a dirvi perché non ti cerchi un lavoro, perché non guadagni, quanto guadagni, ti hanno assunto il primo giorno, quanto ti hanno dato di stipendio. Anche questo, non è che ti assumono e il giorno dopo hai mille euro in tasca, devi comunque per un mese lavorare, dimostrare di essere capace di fare quell'attività e se tu non sei in grado, se tu non ti impegni, dopo un mese ti mandano via anche le aziende che comunque assumono anche un negozio, se tu non sai fare la baristola, la commessa, ti mandano via. Quindi non abbiate paura dei vostri parenti che vi rompono le scatole e vi dicono quanto guadagni, pensate ai famosi parenti che a Natale vi dicevano ce l'hai la fidanzata, perché non ti sposi, perché non fai figli, ecco è la stessa cosa, voi dovete essere liberi di scegliere nella vostra vita, se non lo trovate questo posto fisso, non fate come me, che sono dieci anni che aspettavo un diavolo di concorso e nel frattempo cosa facevo? Dicevo ai parenti, eh sì sì sto aspettando il concorso, no mi sono data da fare, mi sono rimboccata le maniche, ho intrapreso un'attività e sono felice, quindi a tutti quelli che mi dicono quanto guadagni, gli rispondo non chiedermi quanto guadagno, chiedemi come mai sono felice, è lì il segreto.